La difficoltà è perché noi abbiamo fatto una grande partita, quindi è normale quando una squadra gioca bene e l'altra soffre un po', è normale, però se alla fine del primo tempo Leone faceva quei gol lì, cambiava la partita. Allora lo dico sempre ai miei giocatori, dentro di una partita hai tante altre partite, quindi se fai gol in quel momento, secondo tempo sarebbe un'altra partita, quindi è stato importante non prendere quel gol, nel secondo tempo abbiamo giocato bene, quindi Milan era un po' di difficoltà, però martedì sarà un'altra partita. Mi senti bene, un giorno, un giorno special, un giorno importante, desde che ho saito di Milano, non ho mai avuto ancora, quindi dopo 12 anni ho ho riuscato, ma ho sicuramente la terza-feira sarà ancora più che speciale, perché è lì io vivi uno dei migliori anni della mia vita, spero che possa avere una notte abençoata come la di oggi. Grazie a tutti.